oh buongiorno ragazzi benvenuti in classe salve insegnate ciao insegnate io ho un drone ehi alex non sono ammessi droni in classe è pericoloso mi dispiace niente droni è il momento della prima lezione siete pronti si pariamo cosa imparare a scuola si alex bisogna imparare è molto importante ma io voglio giocare con il drone come si chiama questa verdura è un non lo so spagliato alex facile è un broccolo ottimo lavoro jason quale dovrei scegliere e come si chiama questa verdura verdura non lo so no alex carota incredibile jason e questa verdura invece au cosa non lo so spagliato è un peperone bene e ora l'ultima è un non lo so no alex devi prestare più attenzione questo è un pomodoro incredibile jason hai prestato attenzione grazie maestra alex presta attenzione questo è il tuo primo avvertimento il mio primo avvertimento e ora la prossima lezione le stagioni fate tutti attenzione ok insegnante come si chiama questa stagione la non lo so no alex quella non lo so no alex primavera sì primavera e questa come si chiama non lo so no alex è l'autunno fantastico jason e ora l'ultima non lo so alex estate jason è tutto corretto viva ha cercato tutto alex è tutto sbagliato mi dispiace ma sono stato distratto da tutte queste belle cose ti avevo già avvertito alex ora prenderò le tue cose no no avrei dovuto prestare attenzione in classe oh no no le mie cose ha ragione dovrei ascoltare a scuola per essere intelligente alex le riavrai quando sarai più bravo a scuola bene d'ora in poi presterò attenzione e ora bambini ecco l'ultima lezione che colore è questo è il color rosso è il rosso sono molto orgogliosa di voi e questo che colore è questo colore è il blu un ottimo lavoro entrambi e questo invece è il colore verde è il verde ottimo ragazzi e l'ultimo colore è facile quello è l'arancione è l'arancione prof entrambi bravissimi si e vai è tutto giusto è molto importante prestare attenzione si sono così felice e ecco le tue cose alex grazie la prossima volta assicurati di fare attenzione come oggi lo farò jason visto che oggi hai fatto un ottimo lavoro ti farò un piccolo regalo davvero ecco a te jason wow guardate ragazzi jason è molto importante sapere le cose continua come hai fatto oggi resterò sempre attenzione in classe e anche voi ragazzi ricordatevi iscrivetevi a jason blogs